Abbiamo voluto ricordare come una volta accendendo un falò piccolo simbolico però per un po' ripristinare un po' quella vecchiusanza di tessere relazioni intorno a un fuoco e per costruire indubbiamente comunità. Per Anzana Falò adesso è la prima giornata per celebrare Peranzana Style che avrà un pochettino il culmine venerdì 13, sabato 14 e domenica 15. È un evento legato alla nostra olivicoltura e in particolar modo per promuovere e valorizzare l'oliva di Peranzana, buona per mangiare e buona per fare un olio eccellente che gli addetti ai lavori chiamano a duplice attitudine, da menza e da olio. Ma noi vogliamo parlare anche dell'agricoltura in genere perché insieme al commercio e all'artigianato devono e possono diventare il nostro motore economico per far crescere la nostra comunità dal punto di vista occupazionale, culturale, sociale. Indubbiamente in questo caso parleremo in particolar modo di ricoltura e come possiamo mettere valore. Perché oggi non è sufficiente fare un olio straordinario come il nostro extraverge di Peranzana ma bisogna capire anche che leve muovere, che tasselli mettere affinché chiudiamo la filiera e quando dico chiusura della filiera intendo non soltanto produrre eccellenza ma trasformare il luogo e vendere con il nostro marchio, con il marchio di Sansevero altrimenti il valore aggiunto va altrove. Ma questo è l'anello debole, come si fa per vendere? Bene, qualche idea la metteremo in campo soprattutto in questa settimana e in particolar modo venerdì 13 di mattina presso il foyer del nostro teatro comunale insieme ai ragazzi delle nostre scuole superiori e poi dopo alle ore 17.30 in una Peranzana Meeting per parlare di olio ma di economia, di commercializzazione, di comunicazione e parlare anche di paesaggio quindi cercheremo un pochettino di capire come fare per dare valore attraverso la chiusura della filiera e commercializzare con il nostro olio, con il nostro marchio quindi parleremo appunto soprattutto di comunicazione strategica di comunicazione del territorio dove pensiamo che ogni cittadino deve fare la propria parte le scuole, le associazioni di categoria, i commercianti quindi bisogna vedere un po' attraverso una loggia di sistema e di condivisione come ognuno di noi può dare un proprio contributo affinché il valore della nostra agricoltura e in questo caso dell'olio di cultura possa restare qua chiudo dicendo non mancate quindi venerdì a questi appuntamenti perché dopo il convegno e il Peranzana Meeting staremo a Piazza Municipio con i terrazzani a cura della Proloco e sempre con bruschetta, pane, olio e vino rigorosamente locale invece sabato pomeriggio e la domenica per l'intera giornata avremo una serie di spettacoli straordinari e quindi grazie a voi per la partecipazione buon prossimamente di serata e passo la parola all'assessore Felice Carrabba all'agricoltura e alle attività produttive prego assessore buonasera a tutti e a nome dell'amministrazione io vi do il benvenuto vi do il benvenuto a questa prima iniziativa che riguarda tutte le iniziative del Natale il grande manifesto che insieme a tutti gli altri assessori insieme al sindaco, insieme ai consiglieri dell'amministrazione abbiamo messo in campo questa è la dimostrazione con cui con pochi denari riusciamo a fare delle belle iniziative perché per fare delle belle iniziative non c'è bisogno di spendere l'inverosimile è l'esempio questa serata è l'esempio gli alberi è l'esempio l'illuminare di Sansevero con poche risorse riusciamo a fare delle cose belle e degne di questo nome io ringrazio Michele per aver avuto questa fantastica idea di organizzare nel periodo di Natale un'iniziativa che riguardasse l'olio della peranzana la peranzana in sé il prodotto nostro tipico locale il prodotto che molto volte viene un po' sottovalutato anche dagli stessi produttori dagli stessi commercianti un prodotto che viene commerciato anche in maniera distorta alcune volte quindi su questo discorso dell'olio della peranzana con Michele De Lilla con altri consiglieri con tutta la giunta comunale ci stiamo lavorando e nel corso dei prossimi 5 anni forse se ci riusciamo qualche segno qualche bella positività riusciamo a metterla in campo dobbiamo riuscirci io passo la parola al sindaco vi ringrazio e buona serata a tutti e buon Natale io voglio innanzitutto ringraziare Michele De Lilla consigliere De Lilla che all'interno dell'amministrazione si sta facendo portavoce di un'esigenza quella cioè di aprire una riflessione sulla nostra produzione olearia che l'olio insieme al vino possono essere le leve da attivare per rilanciare la nostra terra che continua ad avere ricordiamolo tutti una vocazione agricola per Anzana Style questa rassegna enogastronomica con dei momenti convenistici vuole essere appunto una presa di coscienza di quello che è il nostro oro l'oro giallo che è il nostro olio quindi la presa di coscienza di una commercializzazione che deve elevare la sua qualità e il suo livello lo facciamo nell'ambito della programmazione natalizia questa sera con l'accensione dell'albero a Piazza Municipio e con il Peranzana Style ha inizio una programmazione natalizia molto fitta quasi tutti i giorni a partire da oggi sino al 6 gennaio trovano un evento un momento convennistico una recita qualcosa che cioè richiama la comunità ad essere a ritrovarsi in questo momento che è appunto il Natale quindi io voglio ringraziare lui voglio ringraziare soprattutto i volontari coloro i quali per amore del nostro territorio questa sera si sono messi a disposizione per la buona riuscita di questo evento e degli altri che ci saranno e quindi a loro tributerei davvero un sincero e caloroso applauso alle persone che sono vicino alla brace che sono cioè a disposizione di questa terra non a chiacchiere non a critiche ma a fattivamente perché questa è una terra che ha bisogno di uomini attivi di uomini che si mettono in gioco non ha bisogno di platee enormi di persone che alimentano polemiche inutili la polemica distrugge il territorio e questo territorio è già stato troppo distrutto da chi si erge a facile censore a chi si erge a facile giudice dell'agire di altri a questi uomini a uomini di buona volontà queste anime belle io dico di mettersi in gioco in azioni in attività per questa nostra terra che ha bisogno di azioni di attività e di persone che si mettono in gioco già che la platea di censori polemisti inutili è piena e ha prodotto soltanto sfaceli sfaceli inutili allora io voglio ringraziare loro perché invece di popolare la platea dei polemisti a tempo perso invece si sono messi a disposizione di questa bella organizzazione del Peranzana Style che annualmente si deve affermare come momento per esaltare il prodotto dell'olio il prodotto con l'oliva di Peranzana che come diceva Michele ha da un punto di vista qualitativo nulla da invidiare alle produzioni o le aree del nostro territorio nazionale ma anche dei territori che sono al di fuori dei confini nazionali di questo dobbiamo prendere coscienza e dobbiamo puntare appunto a elevare a promuovere il nostro prodotto con la nostra terra perché l'olivo è una bellezza del nostro paesaggio che ci invidiano dappertutto guardate ogni qualvolta ricevo visite come sindaco da parte di delegazioni che vengono da fuori Sansevero ci elogiano per la bellezza della nostra campagna per la bellezza del nostro paesaggio per la bellezza della nostra città mi fa piacere quando da contraltare a questi polemisti inutili invece c'è l'elogio l'encomio disinteressato di chi venendo da fuori ci dice ma Sansevero è proprio bella ma quanto è bello il vostro agro quanto sono belli i vostri olivi non ne ho visto di così belli allora noi dobbiamo prendere coscienza di ciò e per Anzana Style è appunto un voler richiamare la cittadinanza sanseverese ad essere sempre più innamorati di questa terra e di ciò che la caratterizza e sicuramente gli olivi e la Peranzana è una caratterizzazione molto forte di questo nostro territorio e annualmente Michele dobbiamo far sì che questo appuntamento si vada ad inserire stabilmente nel calendario della programmazione del comune di Sansevero perché venga il momento in cui il cittadino sanseverese sa che al termine della produzione eolearia c'è un momento convegnistico enogastronomico di promozione del territorio intorno all'olio intorno appunto all'olivo e io mi auguro che la platea di coloro i quali si mettono a disposizione e si mettono in gioco che già da quest'anno è abbastanza nutrita nei prossimi anni possa incrementarsi con presenze e con partecipazioni sempre maggiori perché di questo ha bisogno il nostro territorio quindi auguri a tutti oggi 8 dicembre l'immacolata iniziano i festeggiamenti natalizi la nostra programmazione è sui manifesti murali che sono già stati affissi sui muri della nostra città quindi ognuno di voi ne potrà prendere cognizione comunque sui social sul sito istituzionale partecipate 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 ai polemisti dico partecipate grazie